Ed eccoci ragazzi finalmente con tutte le informazioni che ci servivano per l'evento del San Diego Comic Con di Marvel's Spider-Man 2 Hanno confermato data, orario e soprattutto tema di questo panel che ci sarà il 20 luglio ragazzi 20 luglio alle 23.30 orario italiano e questo ragazzi permette anche a questo punto una possibile live da fare insomma per seguire l'evento insieme Però piccola premessa ragazzi non è un evento in stile showcase, summer game fest, insomma tutti quelli che abbiamo visto nell'ultimo mese Sarà un qualcosa da seguire principalmente su Twitter perché è un evento che fanno in diretta con gli attori tra l'altro che saranno presenti lì al panel Per rispondere magari alle domande dei fan, per incontrare i fan, insomma per un sacco di curiosità eccetera eccetera Ma comunque abbiamo un orario umano 23.30 e durerà un'oretta Quindi ci può stare assolutamente a seguire l'evento in diretta per un'ora di giovedì È fattibile ragazzi, è assolutamente fattibile Ma parliamo del tema principale, qual è il tema principale di questo panel? Insomma cosa parleranno di Marvel's Spider-Man 2? Come avevamo un po' previsto si parlerà di Venom Infatti il tema si chiamerà relazioni simbiontiche E direi che non ci sono dubbi ragazzi, si parlerà di quello E credo che a questo punto al 90% visto che terranno proprio un panel Salterà fuori un trailer ragazzi, a questo punto immagino proprio uno story trailer Come è successo anni fa per il primo Marvel's Spider-Man dove a San Diego Comico hanno mostrato proprio quello Quindi immagino che uno story trailer andrà un attimino ad approfondire un pochettino il personaggio di Venom Che finora era rimasto nell'ombra E direi che è giunto il momento di approfondire assolutamente su questo personaggio E non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora ma non solo potrebbero anche approfondire proprio la relazione simbiontica appunto tra Peter e il simbionte Magari si tratta proprio di quello ragazzi, potrebbe essere proprio quello a cui si riferiscono Ma comunque ragazzi, bene ragazzi, simbionte in generale immagino che si parlerà un po' di tutto Sono veramente molto curioso di vedere questo trailer che poi analizzeremo, insomma ci faremo come sempre 150 pippe mentali Avremo insomma non solo questo ma immagino anche qualche appunto curiosità da parte degli attori Che magari parleranno un po' della loro esperienza, magari sveleranno anche qualcosina Ragazzi ci sarà, ci sarà sicuramente da discutere su questo evento E niente, vorrei organizzare quindi a questo punto una live per il 20 luglio alle 23.30 Stiamo un po' così, un'oretta su Twitter, facciamo un po' di chiacchiere, facciamo un po' di teorie Insomma ci trariamo compagnia in quest'oretta nell'attesa di vedere un po' cosa salterà fuori da questo eventuale trailer o gameplay Perché poi noi possiamo impotizzare quello che vogliamo ma potrebbero mostrare un po' di tutto Non so esattamente che tipo di marketing vuole fare Sony, se su un trailer di storia o su un gameplay Penso più di storia, penso più di storia Però vediamo ragazzi, vediamo, sono veramente a questo punto molto curioso Quindi segnatevi sul calendario il 20 luglio perché ne vedremo delle belle E detto questo ragazzi come sempre, iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tutte le ultime novità Per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2 e tutto il resto Quindi ragazzi vi saluto e noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti